Musica Vai Dexter, quanti like chiediamo per questo video? Spaccate il like, 100.000 mi piace pettatino Raga, passate da Instagram Si Se avete bisogno di crediti passate dal link di iscrizione Se mettete il mio codice coupon avrete un piccolo sconto Bella! Amici sportivi, eccoci tornati qui oggi con l'Europa League Liverpool-Manchester United Anche se in realtà ci sarebbe anche la Lazio Però questo qua me lo sento più come un big match Anche perché l'ultima volta vi siete lamentati che non era un big match Però, oggi siamo qui con Liverpool-Manchester United Mi raccomando, dovete distruggere like Ma soprattutto pronosticare sulla mia pagina di Facebook Per vincere coins, crediti ragazzi Quindi si parte subito con Liverpool-Manchester United Eccoci tornati da Hanfield Liverpool-Manchester United Ed è questo non solo una sfida di Europa League Ma è anche come se fosse una partita di Barclays Di Premier League Perché queste squadre già si affrontano nel loro campionato In più si incontrano anche quest'oggi Nella Europa League Quindi ragazzi, mi raccomando Sarà una super partita Andiamo subito a vedere tra poco le formazioni Allora Lallana e Mata da una parte Adesso andiamo nelle formazioni Ecco Liverpool con Miole Flanagan, Sterk, Lovern, Klein, Miller, Anderson, Kahn Lallana, Roberto Firmino e Origi Questo è il Liverpool Poi Pachin ha i big Con Staric, Benteke, Coutinho Non si sa perché Comunque poi il Manchester con De Gea Varela, Mensah, Blind, Rojo, Herrera Schindler, Martial, Depay, Mata, Rashford Arbitro dice che è tutto ok Si può partire con questa sfida di Europa League Poi sicuramente ci sarà il ritorno Tra due settimane, sicuramente Si parte Con Mata Subito per Herrera Va a larga per Rashford Rashford in area Rashford parte il cross Non va Secondo me deve attirare da lì Martial se la lunga Va sull'esterno Va alla cross In mezzo c'è Rashford Non va Sarà corner per lo United Per i Reds Tutti in avanti Allora Blind Lancio lunghissimo Cercare Martial Non lo trova però Forse sì 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 l'ha trovato Però non va Sembrava l'avesse deviato Il difensore indietro Rischiando l'otto gol Invece no Martial Rischia il golasso di testa Ma non va Oh oh Attenzione Può andare al tiro Può andare al cross Si ferma Attenzione Mata Mata Fermato da Lovren Vicinissimo però al gol Il Manchester Attenzione a Mata Con un numero La larga per Rashford Subito per Herrera 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 Tu per tu Herrera Parte il tiro Golasso Liverpool 0 Manchester 1 Ha smesso dentro Herrera Su un taglio Perfetto Non poteva sbagliare Da qui Raga Non poteva sbagliare 1-0 Manchester Herrera Allora si sblocca Dunfield 1-0 Manchester In casa del Liverpool Gol pesantissimo La mette in the box Dove c'è Varela Varela Attenzione Con lui Varela Porta il tiro Mignolet Sarà corner La spazza Miller Finisce qua Primo tempo 1-0 Dunfield Per il Manchester Gol pesantissimo Però Ancora tutto aperto Si va al secondo tempo Allora Risultato Dei primi 45 minuti Liverpool 0 Manchester 1 Liverpool Ha fatto davvero nulla Proprio 0 Invece Il Manchester Ci ha provato E con un acuto Di Herrera È riuscito A trovare il vantaggio Anche se la partita Ancora un po' moscia Diciamo Bloccata un po' Centrocampo Però Liverpool Non ha fatto nulla Adesso si arriva al secondo tempo Spacca del like Vediamo un po' Se cambierà Qualcosina Nel secondo tempo Si arriva Nel secondo tempo Ragazzi Vediamo se Vediamo se c'è qualche cambio Sì Dentro Starridge Fuori Origi Attenzione Mata si accentra Entra in aria Mata va alla cross In mezzo Diventa un tiro Mammignolet Karik Attenzione Karik può andare al tiro Karik lo prova Non va Vicino al 2-0 Il Manchester Può andare al cross Se la lunga molto bene Rashford Attenzione Va al cross In mezzo c'è Depay Depay di testa Sarà calcio d'angolo Anche di testa Ci prova Depay Corner Allarga per Skirtle In the box Vicino al pari Skirtle Però non va Fuori gioco millimetrico Ma c'è Mezza 2 non passa Allora Rashford L'allarga molto bene per Mata Attenzione perché Un 1 contro 2 Mata 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 Attenzione Allarga per Rojo 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 Porta il tiro La chiude Rojo Contropiede magistrale Liverpool 0 Manchester 2 La chiusa Marcos Rojo Per il Manchester Da lì non può nulla L'ha messa nel set Allora 2-0 Big match Questa super partita Di Europa League Comunque Pronosticate questo match E divulgate questo Super big match Da Tino Telecronista Io vi saluto Vi ringrazio Da Tino Tutto Spaccate la Vivere Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Tino